ariete arrivano energie positive a darvi sostegno il momento è intenso e attivo in un crescendo favorevole che vede l'affermazione di iniziative di lavoro e di conquiste sentimentali toro qualche imprevisto potrebbe destare un po di nervosismo siete mentalmente irrequieti e non riuscite a mettere a fuoco le giuste strategie per concretizzare un progetto gemelli i favori del vostro cielo si accrescono lo spirito intraprendente e arguto vi consente di allargare i vostri orizzonti mentre venere nel segno amplifica le faccende amorose cancro periodo di pausa nel quale le condizioni rimangono stabili o non ricevono impulsi particolari è il momento di fare il punto della situazione per chiarire a voi stessi cosa davvero desiderate leone marte fa l'ingresso nel segno ed elargisce una carica passionale ed energetica con la quale affrontate ogni aspetto della quotidianità siete convinti e vincenti in buona forma vergine il vostro cielo appare un po stagnante dopo un periodo abbastanza effervescente adesso vivete con più linearità accettando i fatti così come si presentano bilancia proseguono i benefici del vostro quadro astrale anzi si incrementano creando opportunità in vari ambiti complice la vostra attuale vivacità che vi orienta a cercare l'affermazione scorpione la fase che state attraversando porta un po di scompiglio e vi rende piuttosto irrequieti siete mentalmente attivi ma non riuscite ad arrivare là dove desiderate sagittario arrivano impulsi energetici da marte in angolazione positiva che vi sollevano da un periodo un po apatico mentre persistono problematiche in campo sentimentale capricorno liberi dalle tensioni dell'ultimo periodo si alleggerisce il fardello che state trascinando da qualche tempo anche se il vostro cielo è ancora avaro di fortuna gratuita acquario l'opposizione di marte e mercurio potrebbe fare emergere qualche difficoltà nei rapporti la vostra inclinazione alla irritabilità può portarvi a qualche discussione di troppo pesci l'assetto del vostro cielo mostra un andamento povero di favori al momento dovete accontentarvi della quotidianità e perseverare nei vostri obiettivi con fiducia buone stelle